Il giornale russo Il comitato dei garanti Ha concluso e ti ha consegnato il 27 Il comitato dei garanti Mi ha consegnato qualche cosa Io non ho letto ancora nulla Sul giornale E addirittura ti avrebbe chiesto russo L'incontro Per concordare la data C'è una sua intenzione Perché non ho parlato con lui Adesso Se chi mi sta dicendo questo Vado a vedere i documenti Sul giornale di oggi La data la più lontana possibile Per farci lavorare Un po' tranquilli Va benissimo Domani c'è l'incontro Tecnico Con Regione Arpa Lo sai no? Per il Benzottirene Domani mattina Non c'è questo soprav커co Vado Ciao Buona giornata Ciao, ciao.